E da Radio Speranza in blu oggi un nuovo argomento di patologia geriatrica. Prima di parlare però dell'argomento di oggi, come facciamo un po' da un po' di tempo, vorrei fare una considerazione. Ci sono diverse malattie che noi possiamo vedere e delle quali ci possiamo rendere conto. Pensiamo ad esempio a un'allergia, a una malattia esantematica, alla rosolia, alla varicella. Noi vediamo di avere delle bolle, di avere delle alterazioni sulla pelle. Ci sono altre malattie ugualmente importanti. Pensiamo alle infiammazioni, a delle malattie legate alla patologia delle vie urinarie, avere delle urine scure. Sono tutte le malattie che ci hanno dei sintomi che noi possiamo vedere visivi. Ma vi sono altre patologie dove abbiamo dei sintomi che possiamo soltanto sentire, avvertire. Pensiamo ad esempio alla funzione del cuore e alla funzione del polmone. Noi respiriamo almeno 20 volte ogni minuto. Noi abbiamo una contrazione del cuore almeno 70 volte in media al minuto. Però non ci accorgiamo né del nostro cuore che batte né del polmone che respira. Quando si verifica una patologia a carico di questi due organi ma anche di altri, sono un esempio, ci accorgiamo di avere il cuore o di avere il polmone. Se facciamo quattro piani di scale, di corsa e abbiamo difficoltà e cominciamo ad avere affanno, se facciamo una salita ci accorgiamo che il cuore batte più velocemente. Ecco, esistono anche delle patologie in cui i segni ci sono dati dalla dispnea, cioè dalla difficoltà a respirare, o dal senso di battuta del cuore molto frequente, tachiaritmia o addirittura una battuta irregolare. Parleremo oggi allora delle malattie, delle aritmie degli anziani, che sono una patologia molto comune, in modo particolare della fibrillazione atriale. Perché sono comuni le aritmie degli anziani? Perché il nostro cuore si contrae come una macchina meravigliosa in seguito a dei piccoli impulsi, degli impulsi come quelli di una batteria, di una pila automatica, ma di impulsi proprio di millesimi di millivolt. Il cuore si contrae in modo normale, prima gli atri, poi i ventricoli, ed è questo che ci permette a noi medici, che permette a noi di osservare, di sentire, di ascoltare i toni del cuore. Però anche il tessuto di conduzione si chiama fascio di is, si chiama rete mirabile, venne definita dal Purchini che la scoprì nel cuore. Questa rete elettrica può andare incontro a delle patologie per lo scompenso cardiaco, per l'ipertensione, perché come tutti i fili elettrici, con il passare degli anni e dell'età si rovinano. E allora insorgono determinate patologie, aritmie, il flutto eratriale, la contrazione del cuore arriva ad avere una frequenza molto alta, la tachicardia, che è normale come compenso quando noi facciamo le scale o facciamo una corsa, ma che può verificarsi anche all'improvviso, il cuore raggiunge una frequenza di 160-250 battiti al minuto e voi capite che non può funzionare a lungo in questo modo perché comporta un maggior lavoro, un incremento dello sforzo. Altre volte abbiamo delle forme particolari, quale ad esempio l'aritmia atriale caotica, che è un po' la porta d'ingresso per la fibrillazione atriale di cui parleremo oggi. Sicuramente la fibrillazione atriale è la malattia più frequente degli anziani e può verificarsi a qualsiasi età, ma in genere si verificano i problemi legati alla fibrillazione atriale dopo i 60 anni di età. Gli Stati Uniti, che sono una nazione che normalmente produce moltissime statistiche, gli Stati Uniti hanno 2 milioni di anziani con fibrillazione atriale, una popolazione enorme. Si ritiene attualmente che il 10% degli anziani che ha più di 80 anni va incontro a patologia legata all'aritmia e alla fibrillazione atriale. Vi dicevo della causa della fibrillazione che è un po' l'età, ecco perché si verifica più negli anziani, ma ci sono anche dei fattori predisponenti che noi possiamo correggere prima di arrivare a queste patologie. L'età non ce la possiamo correggere, ma gli effetti che abbiamo acquisiti da giovani in età media possiamo eliminarli o ridurli per non avere questa malattia. Ad esempio l'alcolismo, l'uso dell'alcol in eccesso, il diabete non corretto, la pressione alta, l'ipertiroidismo che molte volte dà delle aritmie anche serie. E allo stesso modo malattie polmonari, ma anche l'abuso di alcuni farmaci particolari. I farmaci, lo ripeto spesso, in greco è l'equivalente di veleno, però i farmaci servono e vanno usati quando occorre. Anche l'eccesso di caffè, le droghe ormai tanto diffuse, soprattutto nel livello del mondo giovanile, anche lo stress che una persona ha, l'agitazione, l'ansia, che provoca un'accelerazione del battito cardiaco e può dare problemi seri, fino a sfociare nelle aritmie di cui vi parlavo. Come ci possiamo accorgere della presenza di una fibrillazione atriale? Ecco, ci accorgiamo che il nostro cuore non batte più regolarmente. Questo si verifica dal punto di vista medico, con una visita è molto semplice, ma qualcuno avverte anche. È un termine che ho imparato durante un corso di specializzazione in Umbria. Ecco, gli Umbri di condottore ho la batterella, cioè sento che il mio cuore batte più velocemente, in continuazione, e molte volte irregolare. E questa è la fibrillazione che noi possiamo vedere e correggere. Vedete, la medicina fa dei progressi enormi. Pensate che l'unico strumento che esisteva una volta per ascoltare il cuore era il fonendoscopio. Oggi tutti abbiamo i nuovi fonendoscopi, già da decenni, con un tubo di gomma che poi si sdoppia per metterlo sulle orecchie. In passato il fonendoscopio, che vuol dire io vedo il suono dentro, non era altro che una trombetta, come si vede sulle vecchie fotografie, sui disegni, che si appoggiava, un piccolo imbuto che si appoggiava sul cuore, sul quale il medico metteva l'orecchio per sentire il battito. Ma da oltre 100 anni abbiamo l'elettrocardiogramma. Sembra una cosa tanto vecchia, è poco più di 100 anni. Oggi abbiamo la possibilità di registrare il battito cardiaco, anche per un periodo lungo di 24 ore, per vedere come il cuore si comporta. E questo è l'olter, che ormai si trova anche in farmacia, si è trovato un po' dovunque. Abbiamo la telemetria, cioè la possibilità che il paziente porti un apparecchio addosso, che per via telematica viene trasmesso a un centro, che può indagare il ritmo, la frequenza, il tipo delle onde cardiache che vengono registrate. Ma fino a strumenti ancora più elevati e progrediti, l'ecocardiografia, che ci fa vedere le valvole cardiache, le dimensioni, il flusso del sangue, le pressioni, la coronarografia, e abbiamo fatto sicuramente tanti progressi nell'interno della cardiologia. Vi parlavo anche prima di quello che può essere la sensazione di avere un battito accelerato. Perché il nostro Pesmaker non funziona più. Si originano a livello dell'atrio tanti foci, tanti punti in cui partono dei battiti i quali sono irregolari. Sono irregolari e quindi la contrazione dell'atrio non si ha più. Viene a mancare una delle due componenti, la componente atriale della contrazione. Ma il problema principale non è tanto questo quando il fatto che quando si ha un rallentamento, come può capitare in un fiume dove la corrente trovi degli ingorghi, dove l'acqua non scorre normalmente, quando si hanno rallentamenti nell'atrio si possono formare dei coaguli, meglio ancora diciamo dei trombi, cioè del sangue che ristagna è in forma delle concrezioni di globuli rossi, di piastrine. Questi coaguli vengono successivamente portati nel ventricolo e dal ventricolo al livello dell'arteria più grande che abbiamo, dell'arteria aorta, dove i coaguli sono come dei corpi estranei. Fin quando questo rimane nella orta non dà problemi, ma a causa dell'elevata pressione che il ventricolo esercita sulla orta quando espelle il sangue, questi emboli, questi coaguli embolizzano, cioè partono e inforcano, vanno a terminare nei primi rami della orta che sono quelli che nutrono il cervello. Voi capite che all'interno del vaso sanguigno più piccolo arriva un coagulo, blocca una zona e di conseguenza avremo un infarto cerebrale, avremo un restringimento dell'arteria, avremo una mancanza di flusso e se questo si verifica su delle grosse arterie al livello delle cerebrali possiamo avere delle paresi, delle paralisi, dell'ictus, cioè delle vere e proprie disfunzioni a livello neurologico per cui il paziente va in coma, il paziente ha una emiplegia, non muove più metà del corpo, può non muovere soltanto gli arti, è molto importante questo perché la principale conseguenza della fibrillazione atriale è proprio la patologia cerebrale, l'ictus o stroke con il termine inglese. Cosa bisogna fare come terapia per controllare la fibrillazione atriale? in passato si disponeva soltanto di un farmaco particolare che esiste tuttora e si usa tuttora anche se in proporzione ridotta rispetto a nuovi farmaci e parlo in espressione della digitale la digitalis purpurea una pianta contiene una sostanza che è stata usata lungamente per ridurre la frequenza cardiaca e successivamente questa molecola è stata studiata in ambulatorio e la digitale attuale che abbiamo oggi è quella che viene preparata sinteticamente ma accanto a questa abbiamo una serie di farmaci che magari molti di voi già usano l'amiodarone il verapamil il DLTazem i betabloccanti il propafenone sono tutti farmaci antirittmici che servono a controllare la frequenza cardiaca a fare in modo che il nostro cuore non vada su di giri vedete in passato sulle nostre autovetture penso alle vecchie 500 degli anni 50 60 ero ero un ragazzo quando ammiravo la 500 di uno zio le vecchie 500 non avevano il contagiri avevano un tachimetro per la velocità ora tutte le macchine da molti decenni hanno il contagiri che ci indicano il numero massimo di giri che possiamo fare con una determinata marcia perché se noi superiamo quei giri il motore soffre anche il nostro cuore quando supera il numero di contrazioni particolari prefissate che abbiamo intorno ai 70 80 vai incontro ad un superlavoro nella fibrillazione atriale questo accade normalmente e noi dobbiamo fare in modo di ridurre quella che è la frequenza della della la frequenza cardiaca una terapia molto importante a livello della fibrillazione atriale è la terapia anticoagulante perché questo vi dicevo che la fibrillazione atriale porta facilmente alla formazione di coaguli di trombi che possono andare a livello cerebrale ma anche in periferia più frequentemente a livello cerebrale la terapia anticoagulante può essere molto semplice in alcuni casi così come viene fatto nella prevenzione cardiovascolare generica quando viene a cardiopatia ischemica insufficienza cardiaca ipertensione arteriosa basta anche una semplice molecola che è l'aspirina non al dosaggio cui noi la usiamo per problemi reumatici o artrosici o reumatologici ma a basso dosaggio un quinto della compressa da 500 milligrammi quella che chiamiamo aspirinetta quando il medico stabilirà che il rischio è maggiore bisogna usare degli anticoagulanti noi abbiamo usato degli anticoagulanti la sostanza chimica si chiama varfarin l'anticoagulante per decenni il varfarin è un ottimo anticoagulante può dare delle complicazioni come tutti gli anticoagulanti ma è il problema principale dato dalla dieta perché chi usa il varfarin il decumarolo i farmaci con basi decumarolo deve astenersi dal mangiare particolari verdure che influiscono sulla coagulazione ormai da diversi anni abbiamo quelli che sono chiamati i nuovi anticoagulanti orali delle sostanze cioè che hanno lo stesso effetto dei decumarolici che a differenza dei decumarolici non devono essere controllate sul sangue chi assume il varfarin dei decumarolici deve recarsi ogni 7 10 15 giorni a controllare come si trova la coagulazione a livello del proprio apparato cardiocircolatorio perché se la terapia è in eccesso possono insorgere delle emorragie anche gravi a livello del tubo digerente soprattutto con i nuovi anticoagulanti questo rischio è ridotto notevolmente e quasi minimo anche se siamo sempre di fronte a degli anticoagulanti veri e propri esistono oltre la fibrillazione atriale curata con dei farmaci delle altre terapie per la fibrillazione e anzitutto occorre premettere per parlare di queste terapie di quella che è la classificazione la fibrillazione può essere parossistica dura cioè da pochi giorni massimo 6-7 giorni se dura più di 7 giorni è persistente è ancora curabile trattabile in modo particolare quando invece dura ancora più di 15 giorni un mese parliamo di una forma permanente ecco quando la fibrillazione viene presa in tempo viene cioè osservata valutata vista nei primi giorni è possibile fare una defibrillazione riportare il cuore alle condizioni di un ritmo normale una cardioversione meglio ancora quando invece si è più avanti come numero di giorni di insorgenza si possono usare ancora delle cardioversioni farmacologiche con dei farmaci fatti in vena non vi parlo delle terapie più provvedite come ad esempio l'ablazione si va al livello del cuore con un elettro per bruciare determinati punti dai quali parte l'aritmia esistono forse diverse forme diverse di ablazione al livello del nodo atrioventricolare al livello degli atri ma saranno gli operatori di cardiologia di cardiochirurgia di fisiologia di fisiopatologia cardiaca a stabilire queste cose a noi importa dire che questo importante organo che è alla base della nostra circolazione che rifornisce di sangue quindi di ossigeno tutto il corpo è un organo molto particolare è un organo che molte volte si emoziona per la paura per una gioia per l'amore per l'odio è un organo che sentiamo facciamo in modo di conservare bene questo cuore che è un po' la nostra centrale il nostro motore che serve a tutto e quando vi sono dei disturbi dei segni particolari ricordiamo al medico che saprà consigliarvi nel modo migliore e di avere la speranza di vivere ancora e a lungo a presto da Radio Speranza abbiamo trasmesso geriatria in onda a cura del professor Carlo D'Angelo a presto a presto a presto a presto